appartenente ad un'illustre famiglia di attori teatrali, esordì come, amoroso, nella compagnia teatrale di Bianca Igius, per poi passare nel 1904 a quella di Emma Grammatica e Leo Orlandini dove fu, primo attore giovane, divenuto, attore brillante, nel 1914, due anni dopo esordì nel cinema con il film Buon Sangue e Non Mente. Sul grande schermo, Casilini vanta un discreto numero di apparizioni tra il 1916 e il 1942, solitamente in ruoli secondari, chiamato alle armi durante la Prima Guerra Mondiale, dove combatté con il ruolo di capitano, riprese l'attività teatrale nel 1918, e passò nelle compagnie di Cesare Dondini, armando Falconi e nuovamente in quella di della Grammatica, dove divenne, primo attore, nel 1924 formò una compagnia teatrale in società con Letizia Bonini e Calisto Beltramo, che durò fino al 1929. Fu poi, caratterista, nelle compagnie di Tatiana Pavlova, nella Tofano de Sica Rissone e in quella di Antonio Gandusio. Nel 1930 fu direttore dell'Accademia Luigi Rassi di Ravenna. Successivamente, Casilini si dedicò anche alla prosa radiofonica presso gli studi AIR di Torino.